Le due più antiche farmacie di Belluno, la farmacia Perale sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele, la farmacia Venturelli in piazza Santo Stefano. Generazioni di bellunesi hanno trovato ascolto, consigli, soluzioni, un grande passato parallelo che oggi si incrocia nel segno della continuità della storia farmacistica di Belluno. È nata la farmacia Venturelli Perale. Oggi come ieri, l'ascolto, i consigli, le soluzioni. I valori veri di una tradizione che si rinnova.